l'ambrenedetto dal ticino dalla svizzera italiana oggi vi faccio vedere le stazioni di un paio di paesini piccole dopo avervi fatto vedere alla stazione di lugano faccio vedere le stazioni dei piccoli paesi come sono fatte questa di di melano maroggia e poi vediamo quella di melide ok iniziamo fuori non c'è per terra un pezzo di carta potete venire qui non c'è una scritta sui muri siamo fuori dalla stazione come potete vedere non c'è una scritta non c'è niente per terra tutto pulito tutto preciso gli stanno facendo dei piccoli lavori l'orologio la fotografia c'è il caffè c'è una panchina qui siamo fuori dalla stazione ok bicicletta la stazione l'esterno come potete vedere ho trovato anche un ragazzo italiano qua di dietro quattro anni che vivi giusto quattro anni che vivo qua è un altro mondo è un altro mondo quasi è un altro altre stazioni di dove sei originario milano è altro mondo altro mondo da milano altro mondo questa è la stazione di melide sta partendo anche il treno e non vedo una scritta vedo tutto pulito combina livello la benzina sta 1,61 franchi quindi i nero danno 1,44 e 7 quindi circa 20 centesimi meno però non è un video sulla benzina faccio vedere anche da qui aiuola perfetta che parla praticello fuori puro lindo perfetto un paio di piccioni qui posto per fare la fotografia tombina livello anche qua fuori tombina livello distributore dei giornali del caffè è raccolta rifiuti orologio perfetto sottopasso informazioni dei treni stazione dei treni non c'è una scritta vado nel sottopasso vediamo non c'è una scritta sui muri un murale ben fatto anche firmato di qui è un murale di qua poi non c'è una scritta sui muri per terra tutto pulito io qui così almeno lo vedo binario 1, binario 3, binario 4 vado su di qui anzi vado di qua che lì sono in controluce salgo qui è il posto riscaldato per l'inverno che lo tengono caldo quando devi aspettare il treno ti metti dentro qui è riscaldato ok? come potete vedere non c'è una scritta melide il murale praticamente è qua sul treno FFS di Svizzera, melide, losanna cioè ma cosa siamo? in un altro pianeta qui? siamo in un altro pianeta? un muro limpido ah volevo far notare una cosa che il tombino livello c'è anche nel prato qua in Svizzera allora io mi chiedo e mi domando visto che comunque queste stazioni si trovano a poca distanza comunque dall'Italia di dietro lì c'è l'Italia siamo in Svizzera italiana non siamo in Svizzera né francese né tedesca ma perché da noi non coppiano? perché da noi non è così? io voglio che al mio paese è così perché non è così? tombina livello, fuori tutto preciso, tutto pulito perché non è così? cioè io è quello che non riesco a capire, non riesco a capacitarmi ok 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 ok